Il futuro delle zone rurali può contare sul Programma di Sviluppo Rurale Nazionale. Grazie ai fondi europei stiamo investendo per ottimizzare l'uso dell'acqua di irrigazione, salvaguardare e migliorare il patrimonio zootecnico e fornire gli strumenti per gestire i rischi in agricoltura. Scopri tutte le opportunità del programma su www.psrn.it. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale. Seminiamo il futuro delle zone rurali. www.psrn.it